Gli scenari politici del post-elezione di Ellis Line alla segreteria del Partito Democratico sono molteplici in divenire e c'è da aspettarsi che la Toscana non uscirà indenne dalla piccola rivoluzione causata dal cambio di pelle del PD, che qui governa la regione, il capoluogo e diversi comuni importanti. Ad entrare con i piedi nel piatto nella discussione di queste ore, peraltro, ci ha pensato proprio un toscano, Matteo Renzi, che nella sua news si è dichiarato entusiasta del periodo politico, visto che, in sintesi, ritiene che lo spostamento a sinistra del PD finirà per causare un'emorragia non tanto di dirigenti quanto di elettori. Vengono giù all'improvviso tutti gli alibi di chi ancora pensava di poter coltivare il riformismo nel PD, scrive, disegnando già il percorso. La nostra scommessa è la campagna elettorale 2024, lì si voterà con il proporzionale puro alle europee, la nostra famiglia sarà quella di Renew Europe. Parla di un centro unitario, Renzi, anche se stamani a pochi minuti di distanza è arrivata anche separata la newsletter di Calenda e apre le porte agli esuli del PD. Ma se a livello nazionale l'esodo sembra per ora poco verosimile, complici i risultati deludenti alle ultime regionali, discorso diverso è quello della Toscana. Perché mentre per Ellis Line si prospettano anni lunghi di opposizione al governo Meloni, suo vero e proprio alter ego, per il neosegretario toscano Emiliano Fossi il cambio di rotta riguarderà molto i colleghi riformisti del PD, che da posizione amministrativa e di rilievo hanno indirizzato le politiche locali negli ultimi anni. I temi divisivi ci sono e come dall'aeroporto alla multiutility, dalla sanità al centro per il rimpatrio, oltre a scadenze elettorali, quelle di maggio ma soprattutto il 2024 citato da Renzi, che pongono il tema delle convergenze politiche al centro del dibattito. Ma anche su questo, per adesso, il neosegretario toscano prende tempo. Sulle primarie del Comune di Firenze, anche questo mi pare un pochino prematuro parlarne. Naturalmente non abbiamo ora da concentrarci sul voto di maggio di quest'anno e vede centri importanti ad andare al voto e poi dobbiamo concentrarci sulla prossima scadenza, quella del 2024, dove andrà al voto non solo Firenze ma tanti altri comuni importanti e sulla quale cercheremo di farci trovare pronti discutendo insieme anche la modalità. Se al momento dunque l'intenzione sembra quella di non voler utilizzare l'atteggiamento muscolare in passato additato proprio alla stagione politica riformista, quella renziana per capirsi, certo in molti guardano le prossime mosse del PD Toscano per capire cosa accadrà rispetto alle partite in campo. Soprattutto nel nodo fiorentino, che come si sa è il più grande bacino di voti della Toscana e dove il sindaco Nardella dovrà mettere a frutto tutta la sua abilità politica per far convivere i suoi obiettivi personali, con la sconfitta di Bonaccini e le pretese al trono di Palazzo Vecchio, da parte della destra, del terzo polo e oggi anche della sinistra.